Eccoci qua ragazzi, mi trovo a Bintoulou, una città bellissima, qui abbiamo una pasticceria e eccoci qua, guardate, questa è una specialità tipica del posto, è la famosissima Sassiska Gariaci o Gariaci Sassiska, ecco, la famosissima Sassiska Gariaci, una specialità del posto, molto buona e quello snack che si prende quando si è di passaggio, che è uno snack popolare, molto in voga da queste parti. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao!